Sì, Cesare. Come lavora Granatina? Ok, va bene. Allora, abbiamo finito di disturbare. Oh, allora, un altro servizio. Una panna con menta allo Studio 7. Salve tutti i vecchi e bambini, poveri e ricchi, vegli e brutti. Tutti abbiamo diritto ad amare. Soprattutto io? Sì, perfino lui, pensate un po'. Ora, oggi vi leggo la lettera del signor Pietro Silvia da Apricale in provincia di Lecco. Cara Cavagna, ti adoro, grazie. Il mio è uno strano problema che mi tortura da sempre. Io sono bello. Oh, finalmente ho trovato qualcuno che ha i miei stessi problemi. Sai, non belli come soffriamo. Come ti capisco, come ti capisco. Fammi leggere la lettera. Lo dico con disperazione perché sono troppo bello. Sono talmente bello che le ragazze per lo più si intimidiscono. Si comportano in maniera imbarazzata con me. E io mi blocco e finisco sempre solo. Esattamente come i brutti. Cosa fare? No, no, che poi non è vero che i brutti non abbiano le donne, eh? Guarda Marzullo. Guarda Cicci. Carissimo Pietro, cosa fare? Ma forse non è vero che sei così bello. Qualche difettuccio la vai anche tu. Vorrei scoprirlo di persona. Vienimi a trovare. Comunque, se vuoi essere meno bello, è semplice. Fatti operare da un chirurgo plastico, da un cane. Ma non ti preoccupare, ce ne sono tanti. Li trovi. Secondo, non lo conosco. Lo conosco un cane di chirurgo. Tu hai operato oggi. Sì, va bene. Tu dili di fare il possibile per migliorarti. E lui sicuramente farà uno scempio. Ok, allora io vi saluto. Un bacione a tutti. E mi raccomando. Continuate a scrivere alla mia rubrica Due Cuore in Alcavagna, TG delle Vacanze, Canale 5, Colonio Monzese. Mi raccomando, se oltre agli uomini belli c'è qualche donna che ha lo stesso problema, io sono libero la domenica. Lavoriamo qua fino a sábado, domenica libero. Scrivete, scrivete. Ciao. Ciao. Ciao.